io sono cattivello buongiorno a tutti stava cantando e sono partita non se ne era accorta quindi cantichiava la piccola sara mica tanto più piccola allora torniamo a parlare di quello che abbiamo trovato all'oddy store quindi harry poter in questo caso è un biscotto e c'erano anche col cioccolato bianco non abbiamo capito se dentro c'è un biglietto oppure no sinceramente ne dubito però anche il cioccolato è però qui c'è una si apre da qua no non c'è il biglietto sono biglietti praticamente sono biglietti io credo che ci fosse anche quindi la bustina è il biglietto diciamo che sono pulite bene guardate anche dentro il biglietto anche dentro beh apriamo il tuo scusa da farmi vedere ne apriamo due sennò vai tira fuori dentro in quel senso c'è una luce che ci permette di far vedere come scolpito stampato non è come ieri cioè per noi ieri che eravamo appena tornati dall'oddy store quindi erano mezzi sciolti infatti io prima di fare la recensione avevo messo in frigo ecco d'estate queste cose che hanno cioccolato meglio mettere in frigo ma ora facciamo l'assaggio assaggio prima io assaggio prima tu intanto vi lascio qui da vedere che bello che è la bustina l'odore invitante sa tipo di orochoc cioccolato si esatto cioccolato buono buono è un po più alto eh no io lo so qua no beh però una cosa poi sai cosa faccio io di solito lo stacchi hanno fatto prima questa qua poi hanno messo uno sprunzo qua di cioccolato e poi l'hanno attaccato sopra bene ma siccome noi adesso dobbiamo continuare a mangiare sentiamo un biscotto solo anche il cioccolato solo non è male bene noi finiremo la recensione a bocca piena quindi io vi ringrazio vi ricordo di iscrivervi al canale metterlo la condividere commentare schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video e attivare tutte le notifiche e sarà come sempre nel video ci vediamo prossimo video ciao